I santi non hanno un cuore indurito, sono aperti alla parola d'amore del Signore e capiscono le miserie umane. Alla messa celebrata nella cappella della Casa Santa Marta, Papa Francesco ha analizzato il rapporto tra Dio e il suo popolo attraverso i secoli. Da una parte c'è l'amore misericordioso del Signore, sempre pronto ad andare incontro alla sua creatura, e dall'altra l'ostinazione dell'uomo a voltargli le spalle, a non essergli fedele. Il Pontefice ha precisato che non ci sono compromessi in questo orizzonte, o si è santi, capaci di diffondere l'amore di Dio nel mondo, o si è ipocriti. Anche questo è accaduto nella storia della Chiesa. Ma pensate, la povera Giovanna d'Arco, oggi è santa, poverina. Questi dottori l'hanno bruciata viva perché dicevano che era eresse, accusata da eresia. Ma erano i dottori, quelli che sapevano la dottrina sicura. Questi farisei, allontanati dall'amore di Dio. Vicino a noi, pensate il Beato Rosmini. Tutti i suoi libri all'index non si potevano leggere, era peccato leggerli. Oggi è beato. Nella storia di Dio con il suo popolo, il Signore mandava per dirle che amava il suo popolo e i profetti. Nella Chiesa il Signore manda i santi. Sono i santi che portano avanti la vita della Chiesa. Sono i santi. Non sono i potenti, non sono gli ipocriti, non sono i santi. Non sono i potenti, non sono i potenti, non sono i potenti.